Qui nel Surinam! Costruiremo il paradiso! Il paradiso in terra sarà qui nel Surinam! Alleluia! Un paese con 500.000 abitanti. Vicino alla Colombia, con tanta cocaina di qualità. Che cosa ci fa un coreano in un posto simile? Conosce il pastore John, vero? Amen. Qui è lui, il padrino della cocaina. Grazie alla guida di Dio, faccio finalmente la sua conoscenza. Alleluia! There's a traitor in your family. Guardiamo in faccia la realtà. Io non sono un poliziotto. Lei è la nostra unica opzione.